A Marco Rubbo, studente della Bocconi a Milano, va riconosciuto il merito di aver rielaborato in modo sistematico e proposto su larga scala una buona idea, organizzare incontri tra studenti universitari e liceali per dare a quest'ultimi dei consigli sul percorso accademico da intraprendere. Il giovane ideatore Vicentino, a 22 anni, viene da Marostica e ha fondato Unimento, piattaforma web per l'aiuto ai giovani a districarsi al meglio nell'orientamento post-scuole superiori. Un'iniziativa attiva, ma gli albori anche per questo, almeno con l'etichetta no profit, fattore che ne arricchisce i meriti. Unimento è un progetto specializzato in orientamento universitario, un network di studenti universitari provenienti da tutta Italia, da diverse facoltà, che si mettono a disposizione per supportare gli studenti liceali e chiarire i loro dubbi riguardo il mondo universitario. Lo facciamo senza passare per le università, che spesso fanno promozione dei loro piani di studi per accapparrarsi lo studente, senza dargli una visione dell'insieme, motivo per cui lo studente è schermato. Noi cercheremo di abbattere questa barriera e dare un passaggio diretto da studente adulto a studente adolescente. Lo facciamo basandoci sulla nostra esperienza personale in maniera gratuita. La scelta del proprio percorso formativo definitivo è molto delicata, spesso si torna indietro o si rinuncia per sbagliati motivi. L'orientamento universitario in entrata ha un gap, con la pandemia il tutto è esploso perché non c'è stato modo di vedere le università, che non sembra ma è una cosa molto importante, istituzioni che non spiegano bene a cosa preparano le facoltà ma fanno recruiting. A metà del percorso di laurea si cambia e si riparte, questo va bene ed è coraggioso perché è importante capire di aver fatto una scelta sbagliata. Grazie.